Qua invece, come vedete, c'è un'altra parte che ora è chiuso, però vi faccio capire un attimo ogni cosa che fa. Quei peciullini assoprò si vede e buttano l'altro giusto. Per la cenarai che spruzza, ci sono gli spruzzini che tu ti rileva e spruzza. Quell'orso spruzza acqua. Questi cosi colorati a terra spruzzano a volte l'acqua in aria. Quella specie di arcobaleno spruzza acqua in diversi modi. Poi su quello scivolo, quel fiore spruzza l'acqua. Quella coso azzurro spruzza acqua e si sale, cioè io lo scivolo spruzza acqua e anche quell'altro. Ora vi faccio vedere il serenino. Qua c'è proprio la piscina per il serenino. E là è il serenino, poi c'è pure serenina. E nel serenino di sera va a fare la serenino dance. Che cos'è la serenino dance? La serenino dance è quando il serenino va a ballare in una specie di palco. Dove arriva pure l'amici di serenella e serenella. Ora stiamo andando nella piazza centrale che porta in tutti i luoghi. Infatti è tutto nel centro di un serenino. La città centrale, là ci sono le foto che ci stanno i fotografi che vanno per tutto il villaggio e si fanno le foto. Là invece dove vedete quella specie di sistema solare, là si fanno i giochi la sera, in seconda serata. Perché in prima serata c'è lo spettacolo che sta proprio dopo la piscina. che la piscina è proprio dopo questa specie di palco di pannone. Guardate, vedete, quella è la piscina. Qua invece si fanno i corsi e si balla. Per la sera. E invece questa è la piscina. Perché ci stanno i rombelloni con i cittadini sui cittadini. due cittadini sui cittadini, due cigoli e gli ombrelloni e le ferie strano. Là invece c'è il bar, in fondo, che serve per... E lì in fondo c'è il teatro, che vi va in una serata. Vedete? Ora là stanno facendo le prove per lo spettacolo di stasera. Grazie. Grazie.